prendimi contenuose sono alice ceccarini sentiamo insieme il sommario di oggi oipa in emergenza cure cuccioli essere animali gli allevamenti biologici sono sono valentina denucci ecco la nuova edizione di prendimi contenuose bentornati nella vita educazione io sono manuela cantore consulente della relazione feline benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica virus ed ora siamo giunti al nostro angolo social bergamo traffico illegale di cuccioli di cane dall'est europa empa salvati due cuccioli gettati nell'immondizia oipa storia di jo abbandonato con una zampa spezzata diamo inizi anche oggi ad una nuova edizione di prendimi contenuose salutiamo tutti voi che ci seguite da casa e partiamo con la prima notizia di oggi che arriva dalla provincia di bergamo in cui è stato scoperto un traffico illegale di cuccioli di cane provenienti dall'est europa per questo reato è stata arrestata un'intera famiglia ma vediamolo meglio nel servizio che segue un'intera famiglia padre madre figli e genero è stata arrestata dalla polizia stradale di bergamo per truffa e frode nel commercio di cuccioli di cane la loro azienda agricola è stata posta sotto sequestro e 57 esemplari di cani sono stati recuperati affidati alle cure dei veterinari di ats bergamo il blitz della stradale è scattato a seguito di una sessantina di denunce sporte nei confronti dei titolari dell'azienda agricola dopo che i cuccioli morivano o risultavano affetti da gravi malattie nelle prime settimane di vita la stessa stradale coordinata dal pm silvia marchina riferisce del cinismo della famiglia che emerge anche da una frase intercettata il cane deve essere messo in braccio al bambino così si affeziona e lo compra di sicuro il padre adesso in carcere mentre gli altri familiari sono ai domiciliari gli animali venivano importati come cuccioli dall'ungheria ma venduti come nati all'azienda agricola l'indagine era iniziata nel 2020 e proseguita anche durante la pandemia alcuni animali venivano venduti come cani di razza ma non lo erano così come non avevano microchip e vaccinazioni i costi variavano dai 1500 euro ai 4500 a seconda della razza e il metodo di vendita erano gli annunci online su siti specializzati una storia miracolosamente alieto fine arriva dalla provincia di livigno due operatori ecologici che stavano facendo il loro giro sono stati attratti da una scatola di carta gettata nell'assecchio dell'indifferenziata all'interno vi sono due gattini di nemmeno due mesi che sono stati buttati via come rifiuti i due operatori ecologici chiamano subito la polizia municipale di livigno che affida i due gattini all'empa ma vediamolo nel servizio che segue buttati dentro un secchione dell'immondizia come fossero un rifiuto da smaltire una brutta storia miracolosamente al lieto fine arriva da livigno è mercoledì 12 ottobre e una coppia di operatori ecologici sta lavorando non ci sono rumori particolari ma una scatola chiusa ermeticamente dentro il secchio dell'indifferenziata attira la loro attenzione probabilmente non andava buttata lì la prendono per smaltirla nella carta ma una volta tra le mani si accorgono che non è vuota e che da dentro arrivano dei miagolì la aprono e si vedono sbucare due musetti meravigliosi con dei grandi occhi azzurri che li fissano due gattini di meno di due mesi erano stati gettati lì come rifiuti sono magri e infreddoliti e i due operatori ecologici chiamano subito la polizia municipale di livigno gli agenti li portano al comando e contattano subito l'ente nazionale protezione animali monica una volontaria dell'empa di sondrio va a prenderli e li tiene con sé per cercare di rimetterli in forza giorno dopo giorno i micetti mangiano e prendono sempre più peso sono stati portati in stallo a tirano vicino sondrio da un'altra volontaria che se ne sta occupando sono stati visitati dal veterinario inizieranno presto la sferminazione per loro racconta sara plozza presidente dell'empa di sondrio sono arrivate moltissime richieste ed abbiamo già individuato le famiglie adottive appena saranno pronti per essere adottati inizieranno la loro nuova vita è stato davvero un miracolo se i due operatori non fossero stati tanto solerti attenti nel loro lavoro a quest'ora non saremmo qui a parlare di futuro e di famiglie adottanti ringrazio di cuore i due operatori e gli agenti della polizia municipale che sono prontamente intervenuti non ci sono parole per chi ha compiuto questo vile gesto chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti e denunciare ritrovato in condizioni drammatiche joe così è stato chiamato dai volontari dell'oipa di napoli è stato subito ricoverato in prognosi riservata per parecchio tempo prima di abbandonarlo non solo il suo guzzino l'ha affamato fino a renderlo uno scheletro ma gli ha anche spezzato una zampetta è stato schiavizzato per cacciare fino allo stremo delle sue forze questo dolcissimo setter ha subito veramente una violenza inaudita che lo ha segnato per sempre sia nel corpo che nell'anima ma vediamo insieme l'epilogo di questa triste storia eccolo qui guardate come l'hanno ridotto ha una doppia fattura alla zampa è il magro da far paura ha la rognato guardate qui guardate come l'hanno ridotto questo è quello che succede ai fetter che mi fanno rinalare per andare a faccia dopo li prendono li abbandonano li lasciano in zone dove non possono procurarsi né cibo né acqua è un cane che chissà da quanti giorni non mangiava chissà da quanto tempo non vedeva è un cane che chiede solo coccole e chiede solo agito e quindi grazie al nostro amore e al futuro della struttura ricorderai il nuovo bello finissimo vi parliamo adesso della storia di Angelo recuperato dai volontari dell'OIPA di Floridia in provincia di Siracusa questo povero cagnolino era stato investito e presentava dei forti dolori agli arti posteriori una volta curato col tempo gli angeli blu si sono accorti di una serie di problemi che lo affliggono ma conosciamolo insieme Angelo l'abbiamo recuperato in strada era stato investito, aveva dolori alle zampe posteriori l'abbiamo curato però man mano ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava Angelo quando mangia tasta le crocchette con le zampe Deambula, colui per mangiare deve tastare le crocchette e questa è la posizione delle zampe posteriori quando cammina non ha un'andatura normale lo abbiamo portato a visita da un neurologo e ha un sospetto di cimurro avuto da piccolo oppure un tumore al cervello e dobbiamo fargli o un attacco o una risonanza magnetica il costo di ambe due certamente noi non lo possiamo sostenere da soli Angelo è un cagnolino di circa 4 anni dolcissimo però deve guarire deve guarire e speriamo di trovargli anche un'adozione proseguiamo con il nostro notiziario e passiamo alla rubrica adozioni come sappiamo nei canili e nei gattili di tutta Italia vi sono ben oltre mezzo milioni di cani e di gatti che sono in attesa che qualcuno li porti via da lì e gli dia il calore di una famiglia molti di loro sono anziani e rischiano di non uscire mai da lì quindi fatevi avanti e chiamateci per adottarli al nostro numero whatsapp 351 1755 144 vediamo adesso gli appelli selezionati oggi per voi vi presentiamo Giovanna è buona, brava, educata, gentile nei modi e nell'approccio con chi si trova ad interagire questo strepitoso pastore tedesco di circa due anni è anche molto giocherellona ed un vero dispenser di coccole ed abbracci segue molto chi la conduce e come solita caratteristica della sua razza ha una propensione ad ascoltare i comandi e ad apprenderli molto in fretta con gli altri cani non ha problemi e attualmente divide il box con una femmina si trova al canile Galileo Galilei di Latina e si affida vaccinata, microcippata e sterilizzata con preaffido ciao a tutti, mi chiamo Franco ho circa 3 anni e sono una taglia piccola peso intorno a 3-4 kg e sono abbastanza brava al guinzaglio c'è qualcuno che vuole adottarmi? mi affideranno castrato, vaccinato e microcippato con preaffido e modulo di adozione mi presento, mi chiamo Camilla mi piace tanto stare insieme ai miei fratellini acquisiti però mi piacerebbe molto di più trovare una mamma umana che mi accolga con tanto amore nella sua famiglia ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà in questa missione mi trovo in provincia di Taranto ma arrivo in tutta Italia per buona adozione adesso vi presentiamo la piccola Lilibet è veramente bellissima ha un temperamento docile ed è molto coccolona e si affida con iter adottivo si trova in provincia di Taranto ma arriva in tutta Italia per una buona adozione mi raccomando contattateci per adottarla adesso proseguiamo dando la parola alla nostra consulente della relazione felina Manuela Pintore e alla sua rubrica dedicata interamente ai nostri amici gatti vediamo quale sarà l'argomento di oggi Bentornati nella rubrica gatti oggi parliamo di Halloween dato che siamo molto vicini a questa ricorrenza ricorrenza che è stata per tanto tempo festeggiata soprattutto negli Stati Uniti e quindi si crede che sia una festa statunitense in realtà le origini di questa festa sono nord europee era una festa legata al passaggio tra il momento della luce quindi dell'estate e l'inizio del buio inverno per questo motivo si mettevano per esempio i lumicini davanti alle finestre questo serviva anche per indicare ai morti la strada giusta per tornare verso casa quali altre sono le tradizioni legate ad Halloween che poi ci riportano ai gatti? lo vediamo insieme una delle leggende legate ad Halloween coinvolge proprio i nostri amici gatti si narra che i villaggi fossero invasi da terribili e giganteschi felini neri che di notte seminavano il terrore si chiamavano cat sit erano streghe condannate a vestire per sempre i panni felini e capaci di rubare l'anima dei defunti prima della sepoltura mentre nella notte di ogni santi diventavano dei portafortuna e potevano benedire le case in cambio di un po' di latte da far trovare proprio fuori dalla porta sono passati in secoli ma le superstizioni sono sopravvissute e ancora oggi ci sono almeno un milione di italiani che considerano il gatto nero un porta sfortuna toccano amuleti o portano amuleti con loro e addirittura si fermano o cambiano strada se il gatto nero attraversa davanti a loro questo quindi è un motivo di preoccupazione soprattutto per i volontari che devono stare attenti nell'affidamento proprio dei gatti neri e adesso vediamo meglio perché un pericolo ancora maggiore per i gatti neri è proprio rappresentato dai riti satanici particolarmente presenti in alcune zone come il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio questi rituali che hanno origine nel medioevo sono svolti da detti che si riuniscono in luoghi isolati in particolari periodi dell'anno come per esempio la notte di Halloween e tra i rituali praticati c'è il sacrificio di gatti neri se avete un gatto nero ed è abituato ad uscire o comunque a farsi dei giri intorno a casa la raccomandazione è quella di tenerlo in casa proprio nella notte di Halloween quindi tra il 31 di ottobre e il primo di novembre e spesso è meglio anche chiuderlo in casa fino al 2 di novembre proprio perché c'è un rischio di essere prelevato per essere poi utilizzato per questi rituali addirittura anche i volontari fanno più attenzione in questo periodo nell'adozione dei gatti quindi quando ci sono cucciolate o gatti adulti neri si cerca sempre di evitare un'adozione proprio in questo periodo quindi fate più attenzione tra il 31 e il 2 di novembre tra il 31 di ottobre e il 2 di novembre ai vostri gatti se escono per combattere l'ignoranza e superare le superstizioni è stata istituita la giornata del gatto nero che si celebra proprio il 17 di novembre con lo scopo di sfatare tutti i falsi miti e le credenze popolari e non è un caso che il giorno scelto sia proprio il 17 per la rubrica gatti è tutto io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione ed ora è il momento dei vostri simpatici amici a quattro zampe approfittate di questa occasione e fatevi con loro una foto ed inviatecela al nostro numero whatsapp 351-1755-144 e noi la pubblicheremo nella rubrica chiamata hashtag io guardo prendimi con te news vi ringraziamo per tutte le foto che ci avete inviato finora e mi raccomando inviatecene ancora tante altre vediamo quelle scelte oggi per voi e mi raccomando inviatecene ancora tante altre grazie a tutti 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 ed ora le indicazioni per continuare a seguirci sui nostri social potete trovarci su facebook alla pagina prendimi con te news in cui pubblichiamo tutte le notizie di cronaca e le novità in modo da tenervi sempre aggiornati e qui troverete inoltre tutte le nostre edizioni passate che vi siete eventualmente persi ci trovate non sopra le nostre il pivote ci trovate anche sulla piattaforma instagram con il nickname prendimi con te tv in cui pubblichiamo tante interessanti foto sul mondo animale e tutte le foto che ci inviate proprio voi telespettatori insieme ai vostri amati amici a quattro zampe vi ricordiamo ancora che la nostra redazione risponde a tutte le vostre domande e curiosità al numero whatsapp 351 17 55 144 E per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla nostra prossima edizione, sempre ricca di notizie ed approfondimenti. Un saluto a tutti voi da Linda. Grazie a tutti.